Approvate senza modifiche rispetto allo scorso anno le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre comunali e quanto stabilito dalla Giunta con apposita delibera. Il provvedimento si inserisce negli atti che porteranno alla redazione del bilancio 2019. Si considera opportuno, si legge nella delibera, confermare gli stessi importi del 2018 anche per quest'anno.